Se dovessimo utilizzare una semplice metafora per descrivere l'intero processo che ha portato alla realizzazione di Halo Infinite, non potremmo che scegliere la più classica delle fiabe allietufine. Dopo il primo e speranzoso annuncio alle 3 del 2018, l'ultimo capitolo nelle mani di 343 Industries ha dovuto superare una gestazione colma di insidie. Parliamo di difficoltà di varia natura, ricorderete l'evento della scorsa estate che aveva scatenato molte polemiche, ricorderete anche le paure per un approccio open world alla campagna che magari rischiava di diluire lo storytelling e il coinvolgimento emotivo? Insomma, c'erano diversi punti tra i rischi che gli sviluppatori si stavano prendendo che potevano mettere sul chi va là i fan storici della serie Halo. Ebbene, tra antichi misteri e nuovi alleati, ci siamo gettati a capofitto su Halo Infinite per carpirne ogni sfaccettatura, tra una campagna che riporta Master Chief al centro di tutto e un comparto multigiocatore solido e divertente. Anticipiamo tranquillamente già da ora di essere rimasti positivamente colpiti dal risultato finale, con la più famosa e storica esclusiva di casa Microsoft che si candida con prepotenza per un posto nel cuore degli appassionati degli sparatutto. Amici e amiche di Spazio Games, bentornati sul nostro canale, io sono Stefania Sperandio e oggi siamo qui, finalmente, per la video recensione di Halo Infinite a cura del nostro marino puntorieri, subito dopo la sigla. La campagna è un'esperienza completa sotto quasi ogni punto di vista. Adrenalinica, ricca di Pathos fin dai primi istanti, prosegue in un turbinio di emozioni dove dialoghi e scene di intermezzo si alternano con maestria fino all'epilogo, ovviamente senza che questo getti ombra su un gameplay frenetico ed estremamente familiare. Lo Spartan John 117 o Master Chief si trova in modo abbastanza rocambolesco su Z Halo, un misterioso pianeta artificiale dalla forma d'anello che ricalca il background del brand. Qui il nostro Master Chief è l'unica speranza per le truppe UNSC, disperse e ferite dai continui attacchi delle legioni degli esiliati, forti del completo controllo della superficie. La storia riprende le tematiche esposte in Halo 5, inserendosi a tutti gli effetti come suo naturale successore, con alcuni riferimenti anche allo strategico Halo Wars 2. Halo Infinite si conferma come un capitolo molto più maturo di quanto avessimo ipotizzato, che permette di far luce su alcuni personaggi iconici legati indissolubilmente al nostro eroe e ne introduce anche di nuovi, come il pilota e l'intelligenza artificiale arma. Proprio questi due personaggi diventeranno le spalle di Master Chief, andando a creare un trio ben amalgamato che durante tutta l'avventura ci permette di conoscere un lato nuovo e molto più umano del nostro protagonista. Un risultato convincente che dopo il mezzo passo falso della campagna di Halo 5 per ritmo e tematiche trattate, sottolinea gli sforzi profusi dal team di sviluppo per proporre una storia all'altezza delle elevate aspettative. Certo, peccato per l'assenza al lancio della campagna cooperativa da sempre molto amata dagli appassionati, che arriverà invece solo nella seconda metà del 2022. Un piccolo sacrificio sotto alcuni aspetti difficili da giustificare, anche se necessario, per concentrarsi in primis nella realizzazione di un'esperienza per giocatore singolo completa e soddisfacente a 360 gradi. Dal punto di vista del mero gameplay, Halo Infinite ritrova quel feedback tipico dello sparatutto frenetico e familiare per tutti i fan di vecchia data, con alcune implementazioni che lo modernizzano senza dare la spiacevole sensazione di tradire la sua anima. Le armi sono ben distribuite e bilanciate tra le molteplici bocche da fuoco dei capitoli passati e alcune curiose new entry, tutte suddivise in specifiche categorie in base del tipo di munizioni. Le sparatorie rimangono ovviamente il centro dell'esperienza, con nemici numerosi e tenaci fin dalla difficoltà intermedia, così come con diverse boss fight che sapranno dare filo da torcere se sottovalutate. In questo contesto, ben si inseriscono per variegare l'approccio le abilità di Master Chief, con il rampino su tutte, perché permette manovre evasive e spostamenti in verticale molto più rapidi. Nella campagna ritroviamo ovviamente tutta una serie di missioni principali più tradizionali, inserite in una rinnovata struttura aperta che concede una coraggiosa quanto piacevole sensazione di scoperta durante l'esplorazione dell'installazione. Segnaliamo di aver impiegato circa 10 ore per raggiungere i titoli di coda della campagna, completando circa un terzo delle attività secondarie. Per i completisti quindi il numero di ore può serenamente raddoppiare. La libertà concessa di girovagare liberamente per Zetaolo non distoglie l'attenzione dall'evoluzione degli eventi e la sensazione fin dalle prime ore di gioco è quella che il team sia riuscito a trovare il giusto compromesso tra ampiezza della mappa e densità delle attività secondarie, aggirando con maestria il rischio legato alla dispersività. Nella mappa di gioco troverete ad esempio basi in mano agli esiliati da conquistare, richieste di soccorso da parte delle forze alleate, tagli su nemici più pericolosi o fortezze ben difese da attaccare. Completare queste attività vi conferirà dei punti valore utili per richiedere armi, veicoli e marine sempre più forti come supporto nelle varie basi in qualsiasi momento. Si tratta di meccaniche piacevoli che rendono bene l'idea di trovarsi su un pianeta completamente ostile. Non mancano oltre alle secondarie anche i collezionabili. Tra questi figurano anche dei nuclei Spartan utilizzabili in un'apposita schermata per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità di Master Chief. Oltre al già citato rampino migliorabile con una maggior velocità di utilizzo o una carica che sordisce i nemici, potremmo ad esempio incrementare la resistenza dell'armatura, equipaggiare uno scudo portatile, dei propulsori che concedono scatti improvvisi o anche un sensore che individua nemici nelle vicinanze. Si tratta di abilità potenziabili per variegare l'approccio agli scontri, ma selezionabili singolarmente da un'opposita interfaccia legata alla croce direzionale del pad. In tutta verità, vi diciamo, è stato però molto difficile sacrificare il rampino così duttile per lasciare spazio alle altre abilità. Il multiplayer è una componente uscita per la prima volta in modo totalmente gratuito, con una natura da free-to-play che non sembra minimamente intaccare la qualità delle modalità online proposte, se non per un sistema di progressione che rappresenta per ora l'unico vero dubbio. Per il lancio del multiplayer di Halo Infinite abbiamo un buon mix di mappe, sono circa una decina, alcune delle quali più adatte per gli scontri 4 vs 4 e altre invece ideali per gli scontri tra squadre da 12 giocatori ciascuna. Le modalità spaziano dal classico massacro alla conquista di zone o bandiere, come da tradizione per la serie, senza dimenticare la tanto amata modalità teschio per la raccolta di punti. Ovviamente ci sarà un maggior utilizzo di modalità sempre nuove con il passare dei mesi e il team ha promesso rotazioni mirate per variare l'approccio alle partite online. È stata anche introdotta una sezione di vita tutorial e considerando il time to kill che abbiamo trovato tendenzialmente più alto, bisognerà rimboccarsi le maniche per entrare nel giusto mood. Le sparatorie infatti sono più dilatate, premiano i giocatori capaci di combinare manovre evasive e precisione così come coloro che abbondano nella prontezza di riflessi. Il sistema di progressione invece introduce i battle pass stagionali con una miriade di oggetti e skin per armature o armi. Peccato per una suddivisione dei livelli legata però all'ottenimento di punti esperienza esclusivamente nel raggiungimento di specifiche limitate sfide che siano giornaliere o settimanali. Questo praticamente disincentiva la spesa della moneta in game nel negozio o per il semplice pass. Siamo consapevoli come sulla carta si tratti di una scelta volta a favorire il gioco di squadra anziché l'abilità dei singoli, ma il risultato ci ha convinto solo in parte, perché la progressione così è lenta e non riesce a premiare quasi mai le giocate migliori. Oltretutto rischia di penalizzare eccessivamente chi non ha molte ore giornaliere da poter dedicare ad Halo Infinite per partecipare alle sfide specifiche che permettono di ottenere i punti esperienza. 343 comunque ha dimostrato anche in questo caso di ascoltare i giocatori e già nei giorni scorsi ha pubblicato alcuni aggiornamenti che hanno arginato un po' il problema. Ha inoltre promesso di continuare a lavorarci per il futuro. Al di là di questa incertezza segnalata, le partite online divertono e divorano il tempo libero dei giocatori con una facilità inaudita. Segnaliamo anche per ora l'assenza della fucina, che si aggiunge alle feature non presenti al lancio e lascia spazi a un minuto editor per il multigiocatore con una discreta varietà di opzioni. Tecnicamente parlando, il lavoro effettuato dai ragazzi di 343 Industries sottolinea in positivo gli sforzi profusi per la realizzazione di un titolo all'altezza della next gen, con pochissimi compromessi. Dobbiamo sottolineare di aver potuto testare la campagna solo ed esclusivamente su Xbox Series X e non su PC, dove la maggior potenza dell'hardware viene sfruttata per una risoluzione in 4K mantenendo bene i 60 fps, al netto di rari singhiozzi durante gli scontri più caotici. Sappiamo che sarà presente anche una modalità performance, ma visto che sarà disponibile dal lancio in poi, come immaginerete non abbiamo avuto modo di testarla prima del debutto del gioco. La direzione artistica ispirata è assolutamente un piacere per gli occhi e complice l'ottimo comparto tecnico, vi ritroverete in certi momenti semplicemente a guardarvi intorno per godervi il panorama. L'anello, dal punto di vista estetico, è una continua sorpresa e anche il dinamico ciclo giorno-note vi aiuta a vedere scorci sempre diversi e innamorarvi dei giochi di luce. Per quanto riguarda la componente tecnica del comparto multigiocatore, abbiamo potuto sfruttare anche un PC, dotato in questo caso di una scheda grafica di ultima generazione. In questo caso abbiamo raggiunto un framerate ancorato sui 150 fps, giocando un minimo tra le impostazioni tra ultra e alto. Una soluzione che valorizza la fluidità delle partite online, così come la resa generale delle ambientazioni, sebbene per il momento manca il raytracing. In un contesto dove le software house faticano a uscire dalla loro comfort zone e preferiscono quasi esclusivamente puntare su un effetto nostalgia, 343 Industries dimostra coraggio e perseveranza nel cercare nuove soluzioni da integrare ai caposaldi che hanno reso grande la serie. Halo Infinite presenta un mondo open world che funziona e convince nella sua unicità, ma non dimentica di dare il giusto spazio alla narrazione e ai vari personaggi principali, evitando in modo intelligente il rischio di iluizione. Il gameplay frenetico rimane una certezza sia in singolo sia nel multigiocatore, e al netto di alcuni piccoli limiti non potevamo chiedere di meglio per tornare a indossare l'armatura di Master Chief. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania Sperandio, questa è la video recensione di Halo Infinite a cura del nostro Marino Punturieri e vi do appuntamento presto sul canale di Spazio Games.